... Auguri di una buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Stasera ci occuperemo di edilizia residenziale, parleremo di case e lo faremo anche all'indomani del terremoto. All'indomani, insomma, ormai più che altro sono diverse settimane, diversi giorni che stiamo sulla cronaca di quello che succede della terra che trema nel centro Italia. Parleremo di case, parleremo in modo particolare di alloggi popolari. Lo faremo intanto con l'assessore all'Uelfer e alla Casa del Comune di Firenze, Sara Funario, che ringrazio e saluto. Buonasera. Buonasera. E buonasera a Luca Talluri, che è Presidente di FederCasa e di Casa Spa Firenze. Buonasera. Buonasera. Allora, dicevamo del terremoto, parlare di case, purtroppo oggi dobbiamo parlare anche di case crollate, in effetti, quanto succede a Noce, in diverse zone del centro Italia, nuovamente colpite dal sisma. Volevo chiedere all'assessore Funaro, anche dal punto di vista politico, perché oggi i sindaci di diverse zone colpite dai terremoti sono anche in qualche modo sotto attacco, tra virgolette, dalla cittadinanza e chiede di poter rimanere in quelle zone. Invece da parte della politica arriva il messaggio, la richiesta di allontanarsi, ovviamente da quelle zone, anche perché potrebbero esserci ripercuotersi di fenomeni di questo tipo. Non lo so, che cosa può fare la politica in questi momenti, no? Situazione delicatissima, le immagini che abbiamo visto in questi giorni sono immagini drammatiche, purtroppo non solo in questi giorni, anche nel terremoto precedente tutte le volte che avvengono situazioni catastrofiche come questa. È chiaro che è difficile dare delle risposte in situazioni emergenziali come queste, che siano le risposte che rispondano ai desideri dei cittadini. È chiaro anche che un sindaco, un amministratore, un presidente di una regione, fino ad arrivare al presidente del Consiglio, si ritrovano a dovere anche a dare risposte che siano risposte di sicurezza per i propri cittadini. e allestire in una situazione come quella che vediamo in quelle immagini delle tendopoli è oggettivamente una situazione di precarietà, di pericolosità e non solo, consideriamo anche le temperature sempre più rigide che ci sono in una situazione dove ci sono anziani, dove ci sono bambini, perciò il primo obiettivo che deve avere la politica è quella di, da una parte, dare risposte che siano risposte di sicurezza per i propri cittadini, perciò metterli in condizioni di vivere in sicurezza. Poi cercare di mediare chiaramente con quelle che sono le richieste, cercare di capire anche gli umori che sono in uno stato di disagio totale. Da parte dei cittadini, anche perché c'è da dire una cosa che almeno fortunatamente non ci sono state vittime in questa seconda scossa e evidentemente anche perché l'unica cosa che si può fare se non si possono prevenire i terremoti si può in qualche modo lavorare sulla costruzione degli edifici. Fino a questo volevo chiedere a Luca Talluri perché poi di fatto insomma le case che rimangono in piedi, i solai che rimangono in piedi saltano le vite quando ci sono case di questo tipo. Esatto, esatto. E succede per tutte le case, siano popolari o che non siano popolari, no? È un problema degli edifici, diciamo, indipendentemente dalla proprietà. Questi fenomeni che si sono verificati dal 24 di agosto con Amatrice, Accumuli e quant'altro, fino ad arrivare all'ultimo di Norcia, ci hanno anche detto alcune cose appunto sulle tipologie edilizie, per come sono state costruite nel tempo quel tipo di edifici, no? Sia quelli del centro storico, sia quelli, come dire, post 1948 in qualche modo. Quello che mi viene da dire è questo, noi abbiamo un grande problema in Italia, che è anche un po' un tabù, quello di mettere in sicurezza il patrimonio esistente, pur sapendo che una grande fetta di questo ne ha oggettivamente bisogno. Ed è un grande tabù anche per, come dire, tutto il popolo italiano. Pensate che esiste ormai da diversi anni il bonus, quello per l'efficientamento energetico, ma nessuno dice che contemporaneamente, contestualmente, le norme scritte e applicate in questi anni andavano bene anche per la messa in sicurezza antisismica. Quindi non era soltanto un ecobonus, come veniva chiamato, ma era anche un sismabonus. Negli scape fiscali, per chi volesse mettere a norma la propria casa. Non se ne parlava neanche, eppure esisteva al pari dell'ecobonus, perché il bonus fiscale prevedeva entrambe le opzioni, sia la busta A, l'efficientamento energetico, sia la busta B, la messa in sicurezza antisismica. Naturalmente, da una parte l'efficientamento energetico poi ricade in qualche modo anche sulle bollette dell'inquiline, quindi in qualche modo forse per quello ti dà la precedenza a quella scelta lì, no? Sì, sia per questo… Perché dall'altra parte sembra un investimento a fondo perduto, diciamo così, però poi in realtà è quello che salva le vite, come si diceva. Esatto, è un modo di ragionare superficiale, oppure un tabù, come dicevo prima, perché è evidente che quel tipo di investimento, anche sulla propria abitazione, non può essere considerato accessorio o secondario. Guardate che il governo in questa legge di stabilità, che sta per essere discursa ed approvata, quella per l'anno 2017, non solo rilancia il sisma bonus con una copertura fino all'85%, mettendo a disposizione 1 miliardo e 600 mila Euro per questo scopo, con una distribuzione temporale di questo sisma bonus su 5 anni, 2017-2021. Questo permetterà appunto di scegliere più consapevolmente a livello di scelta poi della proprietà di utilizzarlo oppure no, perché chiaramente 5 anni ti danno come dire un senso temporale per poter gestire appunto la parte fiscale, la parte dello sgravio. Accanto a questo ci sono i soldi ovviamente per la ricostruzione immediata dei comuni interessati in maniera puntuale a questi eventi drammatici che si sono susseguiti in questi due mesi, per cifre importanti che dovrebbero permettere di ricostruire interamente i centri abitati con il tempo necessario per farli. Ecco, io penso che accanto a questi tipo di misure, che sono chiaramente soldi, il fatto di introdurre la classificazione antisismica degli edifici che sarà volontaria anche per accedere allo sgravio fiscale, al sisma bonus per i privati e io ho proposto per quanto riguarda le case popolari che sono pubbliche e rispetto alle quali c'è una responsabilità diretta e oggettiva del pubblico e quindi dello Stato renderlo invece obbligatorio la classificazione antisismica degli edifici, io credo che questi insieme di provvedimenti dovrebbero far innescare non soltanto dei lavori concreti ma anche un cambio di passo sotto l'aspetto culturale. Chiarissimo, allora veniamo a parlare appunto della questione degli alloggi popolari, anche perché qualche giorno fa è stato reso pubblico, reso noto, insomma i risultati del quinto rapporto sulla casa che riguarda la situazione dell'edilizia residenziale pubblica in Toscana, che cosa emerge? Intanto vediamo alcuni numeri degli alloggi popolari nel cartello 2, questi sono proprio per dare un'informazione grafica anche di quella che è la situazione in Toscana, sono quasi 50 mila gli alloggi in Toscana, uno ogni 33 famiglie, in totale sono 115.578 le persone che vi stanno all'interno, insomma è una città anche medio grande, diciamo di medie dimensioni diciamo, 26 mila nuclei familiari nelle graduatorie che quindi aspettano la casa popolare, di questo parleremo subito dopo, il totale degli avventi diritto in Toscana è il 4,5% delle famiglie residenti in Toscana, quindi un numero ingente. Per capire poi che cosa è cambiato nei dati del 2015 presentati appunto nel rapporto rispetto all'anno scorso, vediamo questo breve servizio e poi ne parliamo in studio. L'emergenza abitativa si conferma uno dei problemi principali della Toscana. Il quinto rapporto sulla casa è stato presentato dall'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli nel Salone degli Innocenti a Firenze. Nel 2015 in Toscana una famiglia su 497 ha subito uno sfratto, mentre a livello nazionale il rapporto si abbassa a una ogni 793. Su 260 mila famiglie toscane che vivono in affitto, 6.500 sono a rischio sfratto. Le province più colpite sono Prato, Livorno e Grossetto. Per migliorare la situazione l'assessore Ceccarelli ha presentato la riforma del sistema di gestione delle case popolari. Noi puntiamo ad avere entro la fine dell'anno il mutuo da 100 milioni che consente di dare prosecuzione e di dare avvio ad alcuni interventi programmati per la realizzazione di 1.300 alloggi nei prossimi tre anni. Oltre ai soldi in arrivo dalla Banca Europea degli Investimenti, la riforma prevede un testo unico e una razionalizzazione dei soggetti gestori, attualmente 11. Il mercato immobiliare privato è risultato in lieve ripresa con un aumento del 10,8% delle compravendite e un più 6,5% per l'accensione di mutui. Per il nono anno consecutivo si è registrata una flessione dei permessi rilasciati per nuove costruzioni. Allora, per capire un po' insomma che cosa ci dicono questi numeri, vorrei fare una domanda così generale per capire anche come è la tendenza rispetto agli anni passati. Lo chiedo prima a Funaro e poi a Tallulia. Allora, i numeri complessivi che abbiamo, ora io ho un quadro chiaramente più chiaro su quella che è l'area della Città di Firenze, dell'Ode Fiorentina, essendo coordinatore dell'Ode Fiorentino, però ci confrontiamo quotidianamente anche con Anci e con il delegato alla Casa sui temi generali in Toscana che più o meno sono più o meno gli stessi. Diciamo in relazione più o meno a Firenze, rientra nei dati toscani. In relazione più o meno in proporzione chiaramente la situazione è più o meno la stessa. Allora, per quello che riguarda i numeri dell'oggi sono effettivamente quelli, faccio un esempio, a Firenze che è una città di circa 380 mila abitanti, noi abbiamo 8 mila alloggi popolari che poi moltiplicato rientrano chiaramente. Siamo nella proporzione. Rientra nella proporzione. Dall'altra parte è confermato, è vero, il dato degli sfratti che sono leggermente diminuiti rispetto al passato, ma c'è un dato che avevamo presentato anche un po' di tempo fa come Firenze, c'è un dato di cambiamento anche per quello che riguarda gli sfratti. È vero che sono diminuiti, ma sono andati all'interno di questa diminuzione ad aumentare quelli che sono gli sfratti per morosità. Perciò questo che cosa vuol dire? Che c'è progressivamente un impoverimento della popolazione e di conseguenza è chiaro che le persone che diventano morose per giusti motivi giustificati, perciò morosità incolpevole, si tratta di famiglie che perdono il lavoro, che sono costrette a dimezzare il lavoro per problematiche sanitarie o di altro tipo, si ritrovano a un certo punto a dover fare i conti con quella che è la realtà. E queste famiglie sono quelle che poi vanno a richiedere spesso la casa popolare, perciò questo porta anche a un aumento di quelle che sono le richieste. Facciamo così, fermiamoci sul discorso sfratti, così andiamo punto per punto. Lo vediamo anche nel cartello 1 e poi ha ripilogato i numeri che venivano anche elencati nel servizio. Una famiglia su 497 ha subito uno sfratti in Toscana, in Italia una su 793. Allora io volevo capire come mai c'è questa diversità tra il dato toscano rispetto a quello italiano, anche se come diceva l'assessore Funaro poi in termini assoluti è in calo la situazione degli sfratti e anche le richieste di sfratti, però il dato resta comunque più alto rispetto da quello nazionale. Sì, io penso questo, penso che sia connesso a dei meccanismi legati al mercato dell'affitto privato, prima di tutto perché la maggior parte di quei dati riguardano non tanto gli alloggi ERP di case popolari o di housing sociale, anche se ce ne sono pochissimi nella nostra regione, ma riguardano il mercato privato della locazione. Probabilmente noi abbiamo un territorio in cui gli sfratti per morosità sono più consistenti e quindi di conseguenza i magistrati si comportano di conseguenza, ovvero tendono a tutelare la proprietà perché quando lo sfratto è in qualche modo doloso, è chiaro che io immagino la mia lettura che ho dato di questo dato è connessa a questo fenomeno del mercato privato della locazione. Se posso aggiungere una cosa su questo, pienamente d'accordo con quello che diceva ora Luca, c'è anche una questione soprattutto in quelle che sono le grandi città, che sono città anche attrattive di turismo, dove la media degli affitti non è bassissima, perciò è chiaro che una famiglia che si ritrova a prendere un appartamento in affitto che ha un prezzo di mercato abbastanza elevato, poi è più difficile che se subentrano delle difficoltà riesca a mantenere questo nel tempo. E proprio per questo noi abbiamo richiesto come Comune di Firenze già da un po' di tempo, speriamo di essere ora alla conclusione del percorso ai sindacati degli inquilini e ai sindacati dei proprietari di riaprire il tavolo dei patti territoriali per rivedere quelli che sono sia le categorizzazioni, perché cambiano nel tempo, e sia per rivedere anche il discorso degli affitti. Volevo chiedere subito a Tallure, perché poi ritorneremo anche sugli sfrati, quelli che sono stati incolpevoli, perché in questo ci sono delle norme che in qualche modo agevano le situazioni più complicate, però volevo chiedere, perché c'era un dato sul cartello 2 che vedevamo prima, 26 mila sono i nuclei familiari nelle graduatorie di accesso, cioè se oltre 115 mila sono gli individui che stanno nelle case popolari, dicevamo una città di medie dimensioni, 26 mila sono i nuclei familiari che vorrebbero accedervi, sono dei numeri davvero impressionanti. Sono dei numeri enormi che confermano tra l'altro altri studi che sono stati in qualche modo prodotti durante il 2016, penso a quello che abbiamo prodotto noi di Federcasa e abbiamo presentato a marzo 2016 con Nomisma, penso allo studio che ha tirato fuori la Caritas 15 giorni fa, che confermava di fatto i dati di Nomisma, la Caritas ha utilizzato i dati dell'Istat, oltre ai suoi dati, Nomisma utilizzava quelli della Banca d'Italia, però di fatto il quadro era lo stesso. Il dato che emerge dal rapporto della Regione Toscana, tra l'altro consideriamo che in Regione Toscana abbiamo presentato nell'anno solare 2016 due rapporti, perché abbiamo presentato a primavera il rapporto per l'anno 2015 che era un po' in ritardo, ora abbiamo presentato quello sul 2016. Quindi sono tutta una serie di studi che sono stati prodotti nel giro di 7-8 mesi che ci dicono che lo scenario legato al disagio che è economico naturalmente e poi diventa abitativo fino a sfociare nell'emergenza abitativa del sistema Paese Italia e anche della Regione Toscana è inquietante e aggiungerei il fatto che non sono solo 26 mila persone in graduatoria e probabilmente sono anche un po' di più quelle che potrebbero emergere… Nucle familiari si parlava, quindi può darsi le persone che si hanno di più. Esatto, ho sbagliato il termine, ma insomma mi riferivo ai nuclei. Noi abbiamo 26 mila nuclei familiari sicuri in graduatoria, in realtà tra quelli che non l'hanno presentato la domanda ma se la presentassero probabilmente rientrerebbero, tra alcuni comuni che devono elaborare le nuove graduatorie in base alla nuova legge, è probabile che quel 26 mila si avvicini più ai 30 mila, quello reale, quindi siamo di fronte ad un numero così consistente che ci vorrà 15 o 20 anni per smaltirlo sotto il profilo del disagio economico, cioè grazie ad un'economia che riparte, quindi a dei redditi che ripartono. Quindi è evidente che il lasso di tempo rispetto al quale dovremo gestire questa priorità è molto lungo, non è soltanto nell'immediato, nei prossimi tre anni, magari mi verrebbe da dire, dobbiamo accettare la sfida di fare una pianificazione, una programmazione che sia da un lato prioritaria rispetto ad altri temi e fatta sul lungo periodo, come quando costruiamo un piano regolatore di una città o di un paese, deve valere almeno 15 o 20 anni per essere buono, altrimenti vorrebbe dire che non è fatto bene. Ci si riasce in una contingenza in cui le elezioni pesano sempre tantissimo sulle scelte politiche, è difficile programmare quando si parla in termini politici, soprattutto negli ultimi tempi, è sempre molto complicato fare pianificazione. Io penso che la buona politica lo sappia fare, noi viviamo in un territorio, quello della Toscana, in cui sappiamo fare questo, pensate che questo rapporto che oggi commentiamo è un rapporto che mai è consolidato, è il sesto che viene prodotto, quindi vuol dire che abbiamo un centro studi presso la regione Toscana strutturato e consolidato, che permette di fare analisi sul medio e lungo periodo, questo è un modo serio di lavorare, io credo che la regione Toscana così come dimostra con questo rapporto di avere la capacità e la lungimiranza di lavorare sul medio e lungo periodo, lo debba avere anche contestualmente e contemporaneamente nella fase di programmazione, perché altrimenti diventerebbe anomalo, da un lato ragionare nei tempi lunghi e poi fare una pianificazione nei tempi molto brevi, sarebbe quantomeno strano secondo me. Tra l'altro su questo, a parte che sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto, ma c'è da fare una riflessione rispetto alla domanda che pone, che è la politica soprattutto quando si avvicinano alle scadenze elettorali può cercare di dare risposte, ma noi pensiamo ma io penso in particolar modo che la politica abbia il dovere di leggere quelli che sono i dati che ci arrivano dal territorio e programmare le azioni politiche in base a quei dati che ci arrivano e che ognuno per propria parte debba fare i propri sforzi. Faccio due esempi concreti per chiudere. Di fronte a una situazione dove gli alloggi popolari, nel momento in cui vengono rilasciati per tutta una serie di motivi, si ritrovano in delle condizioni spesso per le quali non sono soffribili immediatamente, noi ci siamo ritrovati con un patrimonio enorme che non poteva essere utilizzato e dove mancavano le risorse per ristrutturare. Gli alloggi di risulta. Gli alloggi di risulta. Su questo il governo con il piano del Rio ha presentato un piano di fondi per ristrutturare questi alloggi e dare la possibilità di farli riutilizzare delle famiglie. Noi come amministrazione comunale abbiamo detto che per quegli alloggi che poi si sono liberati successivamente, che avremo messo delle risorse nostre per poter intervenire su quegli alloggi, dall'altra parte il governo con il piano periferie ha permesso di andare a fare azioni sia da un punto di vista di efficientamento energetico e sia da un punto di vista di ristrutturazioni, noi pensiamo che la politica in questo debba dare delle risposte proprio quando vede la contingenza delle situazioni, dei numeri come quelli che sono preoccupanti bisogna dare delle risposte e le risposte se si vogliono dare si possono dare. Allora ci fermiamo anche perché Funaro più o meno ci ha dato anche i titoli di quelle che poi saranno in cedere della trasmissione nella sua seconda parte perché c'è appunto da parlare anche del tema delle periferie ma c'è da parlare anche degli alloggi anche perché proprio il sindaco di Firenze ha preso un impegno preciso e anche piuttosto importante da qui alla fine del mandato, vedremo e cercheremo di capire se riuscirà a tenerne fede. Cinque minuti di informazione e poi torniamo in studio. Restate con noi. Ben tornati in studio, stiamo parlando di alloggi popolari, stiamo parlando della situazione in Toscana anche alla luce del quinto rapporto sulla condizione abitativa in Toscana. Volevo chiedere a Luca Talluri di Federcase, di Casa Spa Firenze, di che cosa avrebbe bisogno la Toscana, di quante case popolari avrebbe bisogno la Toscana in questo momento. Il fabbisogno emerge dallo studio, siamo in presenza, come si diceva prima, di 26 mila nuclei familiari che avrebbero diritto, secondo la legge toscana, ad un alloggio di casa popolare, sono già lì in gradatoria, già ci sono, probabilmente saranno anche qualcosa in più, si avvicinano ai 30 mila. Io credo che una pianificazione intelligente sia quella di portare dai 49 mila ai 500 attuali, almeno arrivare a 60 mila come obiettivo, come disegno strategico. Il non porsi neanche l'obiettivo, neanche il disegno strategico sarebbe una miopia e credo che la politica abbia il compito di ragionare anche sul medio e lungo periodo, di darsi obiettivi strategici. Sarebbe come se il governo Renzi si preoccupasse di efficientamento antisismico nell'immediato nei prossimi due anni. È evidente che, come ha detto il Presidente di Consiglio, questa è una sfida che questo Paese dovrà obbligatoriamente cogliere e che la vedrà lavorare sui 20 anni. In tempi quanto ci vuole più o meno? Quanti alloggi all'anno si riescono a costruire? Si possono tranquillamente costruire oltre i mille alloggi all'anno in tutta la regione toscana, da questo punto di vista sono numeri plausibilissimi, non c'è un grosso problema in questo senso. Questi numeri ci dicono anche, quelli dello studio del rapporto, che essendo ripartiti le compravendite come emergono anche sul territorio toscano, non soltanto perché lo dice l'ABI ogni due mesi facendo il proprio comunicato stampa e finisce in televisione nel sole 24 ore, ma ce lo dice anche il rapporto. Questo ci indica che la nostra regione è una regione in cui l'acquisto della prima casa in proprietà rimane culturalmente molto forte, perché se la crisi economica ha cominciato a vedere il ciclo rallentare quella della difficoltà e sono già ripartite le compravendite, vuol dire che in termini culturali è molto forte la spinta nel nostro paese, in Italia ma anche in Toscana in particolar modo dove le percentuali di case in proprietà sono più elevate della media nazionale tra l'altro. E' chiaro, noi siamo una regione in cui per approccio conservatore, per tradizione amiamo molto la casa in proprietà, la prima casa, di conseguenza chi va in affitto ed è in difficoltà, sono i più poveri, hanno bisogno di una casa popolare, quindi anche investire tempo, risorse, energie, risorse intendo quelle economiche, in percorsi che non sono quelli di aumentare il numero di alloggi di case popolari, rischiano di essere centrati sull'esigenza principale, perché questo è un tema su cui non si deve abbassare la guardia, siccome siamo in tempi di vacche magre, di risorse fortemente contingentate, è evidente che noi dobbiamo fare lo sforzo di prendere i soldi che ci sono e di metterli dove prioritariamente servono e non di far partire magari i percorsi che riteniamo culturalmente interessanti, sul piano del principio, della carta, della teoria, ma in realtà non rispondono all'esigenza vera. Certo, tra poco ne parleremo di questo anche perché è un risvolto sociale molto importante e ne volevo parlare in relazione ai giovani, altre volte l'abbiamo fatto, volevo però chiedere a Funario perché lavora come assessore in una giunta di cui il sindaco si è preso un impegno ben preciso, nei prossimi tre anni, avrete 800 case dentro la fine del mandato, più di 300 sono già state consegnate, rimangono insomma quella quota per arrivare a fine dei tre anni, ci riuscirete? Sì, è chiaro che se viene fatto un annuncio è perché abbiamo fatto i calcoli di quello che riusciremo a fare in questi anni e faremo di tutto per arrivare all'obiettivo ma possibilmente anche se qualcosa di più viene, ben venga da questo punto di vista. è un piano sul quale noi abbiamo verificato quelli che sono i cantieri in corso con Casa Spa e che verranno consegnati nei prossimi anni a partire da Via Le Giannotti, a proseguire con Torre degli Aldi, Via Schiff, le Murate, i vari cantieri che abbiamo in corso. Insieme a questi ci sono gli alloggi di risulta che come dicevo precedentemente una parte sono finanziati con il piano del Rio, un'altra parte abbiamo deciso di trovare noi le risorse e un pezzo di questo l'abbiamo inseriti nel piano periferia, perciò nel piano periferia ci saranno sia alloggi di risulta da ristrutturare ma anche efficientemente energetico di alcuni edifici, per cui questo bisogna dare risposte non solo a quelli che sono in attesa ma anche a chi ci sta all'interno degli edifici già attualmente e in più andremo a reperire le risorse necessarie. Gli alloggi di risulta sono circa 300 più gli altri in costruzione e ormai oggi più di 300 già consegnati, siamo a circa 330-340. Con questo riusciremo ad andare a coprire il numero degli 800 alloggi che abbiamo presentato. Rimango un attimo con lei perché volevo chiederle una cosa, perché parlando di politica qualche tempo fa è venuta fuori una piccola questione con la sindaca di Cascina che ha detto finalmente ci svegliamo in Toscana perché di fatto è entrata in vigore una norma che peraltro è la contenuta, se non sbaglio, della legge regionale che regolamentava il settore appunto degli alloggi popolari, per cui gli stranieri che fanno domanda per accedere alle liste degli alloggi popolari avranno bisogno anche di una certificazione dall'ambasciato, dal consolato del paese di origini che attesti sostanzialmente che lui nel suo paese non ha proprietà all'estero. È una norma che la Lega fa bene a fare sua? Insomma una norma della Lega partorita da loro? È uscito in maniera anche molto chiara sulla stampa perché la Lega l'aveva venduta come un cavillo burocratico che erano riusciti a trovare per chissà dove per poter dare delle risposte agli italiani e non agli stranieri. Noi abbiamo ripetito in maniera molto chiara che intanto la norma di non avere proprietà né in Italia né all'estero, intanto questo lo ripetisco alla sindaca della Lega, è una norma che è all'interno della legge sull'edilizia popolare e è una norma a firma Stefania Saccardi e perciò il Partito Democratico, perciò una norma nostra. Che non riguarda, e anche qui c'è un'imprecisione in quello che ha dichiarato la sindaca perché non riguarda solo e esclusivamente gli stranieri, riguarda tutti, riguarda sia gli stranieri che vivono in Italia ma riguarda anche quegli italiani che vivono all'estero e che perciò possono avere proprietà all'estero. Qual è il tema? Fondamentalmente che è molto semplice e molto banale. Mentre con le proprietà in Italia noi siamo in grado di verificare attraverso i vari siti informatici, se una persona è proprietaria di un alloggio o meno, con le proprietà all'estero non siamo in grado di farlo, ma è necessario produrre un documento dell'ambasciata. Chiaro che non si va a parlare di zone colpite dalla guerra in cui c'è un'impossibilità di verificare questo, ma si va a parlare di tutte quelle altre regioni, di tutti quegli altri stati in cui i documenti possano essere prodotti. E questo abbatterà, come dice la sindaca, gli immigrati da liste degli alloggi? Ma in realtà il numero di immigrati che ha la sindaca all'interno della sua lista, perché tra l'altro non era la lista per gli alloggi, ma quella era la lista per le richieste del contributo affitto, perciò era una cosa completamente differente. È la stessa situazione che abbiamo noi, noi siamo nel momento in cui stiamo chiedendo le verifiche di queste, è chiaro che il numero di richieste da parte degli stranieri va in proporzione con la percentuale delle richieste di stranieri che ci sono sul territorio. È chiaro che il comune di Cascina ha una percentuale di stranieri minori, perciò avrà richieste minori rispetto a comuni più grandi come Firenze, come Pisa, Livorno, come altri che hanno una percentuale di stranieri più alta. Diciamo che questa è una norma che va a chiudere e a stringere in maniera forte in realtà su tutti, non solo sugli stranieri, ma su italiani e su stranieri. Quando si parla di proprietà immobiliari, però qui è bene precisare, non si parla certo del fondo o della casa di roccata in montagna che non è utilizzabile, o della proprietà divisa tra 10.000 eredi. Si parla di proprietà da un punto di vista abitativo che possono essere usufruibili e perciò alternative a quella casa. È chiaro che se lancia in maniera provocatoria la famiglia che è presente alla domanda la villetta al mare Forte dei Marmi, può vendersi la villetta al mare e prendersi la casa a Firenze per poterci vivere. Però non è stato creato assolutamente niente di nuovo, è una norma inserita nella legge del PD. Volevo parlare con Luca Talluri che prima citava il rapporto della Caritas, noi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, abbiamo anche una grafia, vediamo se la regia riesce a ritrovarla, però insomma quello che emerge è un dato che noi tra l'altro abbiamo messo in relazione spesso anche con il dato che riguarda invece gli emigrati, cioè chi parte dall'Italia per andarsene e che riguarda però anche lo scarso, scarsissimo numero di natalità in Italia, insomma fa il paio su una situazione che vede i giovani, sostanzialmente quelli nella fascia vanno tra i 18 e i 35 anni, forse una delle fasce più deboli in questo momento nel nostro paese. Volevo chiedere a Talluri se la casa popolare può o può diventare una soluzione anche per loro. per i giovani, chi vuole uscire da casa, dai genitori, insomma per cominciare a costruirsi una vita. Assolutamente sì, lo è già oggi, nel senso che i nuclei familiari che possono avere il diritto di accedere appunto alla gradatoria di case popolari non hanno limiti di età, anzi voglio dire, da questo punto di vista non c'è nessun tipo di limitazione, è una scena. Manca un approccio culturale. Manca un approccio culturale, ovviamente molti dei giovani in assenza di una capacità reddituale, diciamo stabile e sicura, tendono a non uscire dal nucleo di origine, di famiglia, questa è una scelta appunto culturale perché penso che si possa tranquillamente provare nella propria vita a scegliere di intraprendere un percorso di autonomia anche in una situazione di tipo precario, insomma, ecco io credo che le sfide vadano come dire colte, soprattutto quando si è giovani e quindi quando c'è lo spazio anche temporale per giocare le sfide, per magari anche perderle temporaneamente e poi rigiocarle, magari vincerle, quindi come dire da questo punto di vista bisogna avere anche un po' più di coraggio, forse l'eccesso di paure, l'eccesso di conservatorismo che si annidano un po' in questo paese, forse anche per una cultura un po' provinciale da questo punto di vista, è un forte limite e i giovani diventano come dire una delle categorie su cui questa cosa diventa più evidente. Ma c'è anche secondo lei una componente per cui la casa popolare viene vista un po' un'accezione negativa, c'è comunque qualcosa che automaticamente dimostra che sei una persona povera o comunque che non sei, non riesci a vivere, perché all'estero non funziona così, no? Ne abbiamo parlato altre volte. Sì, ne abbiamo parlato in questa serie, più volte raccontando, anche testimoniando insomma delle esperienze che ci sono a giro per l'Europa e sono un po' diverse dalla nostra. Questo è vero, c'è ancora molto pudore nel nostro paese a mostrare i propri limiti o le proprie debolezze, in generale non soltanto quelle economiche. Penso che anche da questo punto di vista dobbiamo avere quel tipo di serenità d'animo che porta ognuno di noi a avere il coraggio di dire la verità, a noi stessi e agli altri e non per forza sentirlo come un problema questo elemento qui. Penso che se noi riusciremo a fare percorsi culturalmente stimolanti in questo senso e sono in atto, sono in corso, guardate che molti degli alloggi che stiamo costruendo, consegnando, l'assessore Funaro giustamente citava i cantieri più importanti della città di Firenze, saranno condomini dove le caratteristiche proprio degli edifici saranno condomini tra i più belli della città di Firenze, dove sarà possibile vivere con un'esperienza legata a un nuovo tipo di abitare che magari negli alloggi del mercato privato non sarà possibile. Quindi da questo punto di vista scegliere di andare a chiedere una casa popolare non vuol dire per forza andare ad abitare in un ghetto che destabilizza. No, perché poi è anche questo, no? Che qua la differenza nella percezione delle persone vuole dire qualcosa, Funaro? Sì, a parte che sono molto belle, basta vedere il cantiere di Torre degli Agli e tutte le persone che vengano a visitare il cantiere vorrebbero andare a stare là. Abbiamo per fortuna le nuove costruzioni soprattutto, ma anche alcune vecchie, anche all'interno del centro storico e fuori, sono realmente molto molto belle e non dà la sensazione di stare in un ghetto. E volevo ricordare che all'interno del vecchio bando e anche all'interno del nuovo bando c'è una graduatoria speciale, proprio per le giovani coppie, per fare in modo che i giovani rimangano sul territorio e per fare in modo che possano avere risposte. Per quello che riguarda il vecchio bando, noi con la consegna di Via Toscanini abbiamo estinto tutta la graduatoria e nel nuovo bando sarà presente. Oltre a questo però dobbiamo pensare anche a quelle fasce di giovani che magari non hanno il reddito per rientrare nelle case popolari ma che non ce la fanno comunque nel libero mercato. E proprio per questo con il sindaco quando si è presentato il piano degli 800 alloggi abbiamo anche lanciato, è una piccola prima risoluzione, però intanto è un segnale importante, nella palazzina dell'Exmaer in Linvia Masaccio. Noi abbiamo presentato un progetto con il Pommetro per fare un housing sociale lì dove verranno inserite i giovani coppie, perché per fare in modo che i giovani rimangano bisogna dare risposte che siano su tutti i piani. Ultimissima cosa volevo chiedere a Luca Talluri, il futuro della Toscana per quanto riguarda gli alloggi popolari riguarda anche una razionalizzazione dei gestori, perché insomma ce ne sono diversi che fanno il servizio, cosa succederà? Beh, cosa succederà? Quello che succederà lo decide il Consiglio regionale della Toscana, perché le leggi regionali le vota il Consiglio, possono essere proposte dalla Giunta, da un consigliere regionale o da più consiglieri regionali, ma comunque le vota il Consiglio. La Giunta ha manifestato in questi mesi la volontà di razionalizzare, io penso che siccome la Toscana è una regione in cui nel 1996, quindi 20 anni fa, fu fatta la scelta di incentrare il sistema dell'ERP intorno ai comuni, scelta che è stata fatta soltanto da due regioni, Toscana ed Emilia Romagna a suo tempo, le altre 18 su 20 hanno mantenuto un'autonomia degli istituti di case popolari, mantenendo la proprietà degli immobili agli istituti di case popolari, mentre appunto Toscana ed Emilia Romagna scelsero di darla ai comuni, io credo che qualunque progetto di riorganizzazione della governance, di riorganizzazione degli assetti, deve essere accompagnato con un disegno strategico, perché comunque vada il sistema attuale, ha funzionato e funziona, poi certo può essere migliorato, certo ha delle imperfezioni, però partiamo da un punto di partenza, cioè di 11 aziende che funzionano, bene o male, ma funzionano. Quindi non siamo di fronte a casi come l'Aller di Milano, che è un disastro economico finanziario con oltre 500 milioni su una singola azienda di buco di bilancio, è evidente che lì c'è un problema oggettivo ed immediato di governance che ti obbliga, anche non volendo, ad intervenire. In Toscana il sistema della governance c'è a 20 anni di età, può essere ritoccato e migliorato? Sicuramente sì, so che i comuni hanno disponibilità a ragionare in maniera seria di questo, però bisogna ragionare in maniera seria, cioè accompagnandolo con una visione strategica e un piano strategico complessivo sull'EP, citavo prima il passaggio da 49 a 60 mila, è un tassello di questo. Costruire il caso per la priorità, fumare su questo, visto che voleva dire qualcosa di rapidissima però. Rapidissima su questo, l'Anci l'ha detto in maniera molto chiara dopo l'incontro avuto con Ceccarelli, è uscito il Presidente, è uscito il Delegato e io sono pienamente d'accordo con la loro posizione, va bene ragionare della governance, ma prima di ragionare della governance bisogna ragionare di un piano pluriennale di costruzione di alloggi popolari. Quello che la Regione sta facendo ora è andare a finanziare i famosi 100 milioni, sono per finanziare gli alloggi che sono già in costruzione in tutte le varie città e ben venga questo, ma bisogna ragionare anche per il dopo, se no al prossimo mandato rischiamo di lasciare i comuni senza una progettualità, in questo senso che invece dai dati si rende necessario. Grazie mille a Luca Talluri, grazie mille a Sara Funaro per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito da casa, Telegram termina qui, non ci vediamo domani per la festa insomma torneremo naturalmente mercoledì, una buona serata a tutti. Grazie mille a Sara Funaro